Ciao a tutti siamo qui tornati per la carriera un saluto e bentrovati dal ASSEN su MotoGP 18 un nuovo gioco che è uscito ieri ieri ho trovato una diretta lunga sul sulla carriera e anche su qualche gare che avevamo fatto in MotoGP e siamo in qualifica le scorse gare avevamo fatto ottimi risultati tra cui vabbè prima gara undicesima va bene però la seconda gara avevamo vinta al Mugello sotto la pioggia 1.49 e 1.5 da battere e comunque ricordo nella qualità del Mugello con i ruchi hanno fatto dei punti a fare quello della MotoGP per esempio uno ha fatto 1.59 che in realtà si sono due minuti basta comunque non si non si non è bagnato bagnato non è proprio bagnato però ci siamo con la mia piatta spero c'è il giro di quella la 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 3-2 4-6 circa la la 4-6 imparerà l'olio folk 4-8 non si 2-8 creволiare algumas attencarn THEY 3-8 4-0 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, mettiamoci... Torniamo in pista che cerca di fare il giro più veloce già adesso. Grazie a tutti. 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 Allora no, si poteva fare il giro veloce. Grazie a tutti. 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 Vincendo diversi campionati. Buongiorno, buongiorno da Assen e ben trovati a tutti gli appassionati che si sono collegati con noi per seguire il Gran Premio d'Olanda. Dopo la pioggia di pochezza. Dopo la pioggia di poche ore fa finalmente è spuntato il sereno, ma il tempo che ci separa dalla partenza non è sufficiente a far asciugare la pista. Per questo la gara è stata dichiarata bagnata, lasciando ai singoli piloti la scelta della gomma più adatta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. per questo il mondiale, per la vittoria, questo è una zona ruffissima, dentro il battaglio dei vostri occhi, e direttamente su questi occhi, per la vittoria del mondo. Sì, stai passando con la cimera. Sì, andiamo a metterci questa sedita. 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 Sì, andiamo a metterci. 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 Comunque sempre un podio. Secondo grande. Secondo. Ottimo. Ottimo. E qui siamo ancora. Secondo in campionato. Molto amanti. Comunque dimostra. Ci può essere un pizzico di amarezza per non aver vinto. Ma questo secondo posto regala 20 punti per la classifica del campionato. e la certezza di essere competitivi anche per le prossime gare. Comunque ragazzi. Ottimo anche oggi. Nei video vi farò fare. Vi farò una gara alla volta. Perché comunque dopo verrebbe anche lungo. Comunque arriveranno anche le dirette. Di lunghe di MotoGP 18 sulla carriera. Niente. Andiamo avanti. Procediamo. Comunque dai. Vi saluto. Ci vediamo alla prossima volta. Ci vediamo alla prossima volta. Allora.